Che bello fare la vita da ricchi, hai ragione, anche se non lo siamo. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui per fare un tutorial. Vi faccio vedere come si incarta una LOL, che poi dopo domani la apriremo. Però non è dopo domani, è dopo domani ancora, perché dopo domani, cioè lunedì, vado al mare. E quindi faremo un vlog al mare, però ovviamente senza LOL, perché vi racconto la storia. Io una volta sono andata al mare, l'anno scorso ho portato una LOL in spiaggia. E poi mi successe che ho perso una scarpa, e quindi perciò non porto più l'ELAL al mare. Va bene, non perdiamoci in chiacchiere, comunque iniziamo a incartare. Per prima cosa ho deciso di incartare Glamour Queen. Perché volevo incartare lei. Sì, volevi incartare me, ma imparati, non mi incartare più. Mi hai già incartata una volta. Vabbè, non fa niente, comunque non la pensate ragazzi. Lei si vuole vantare sempre. Iniziamo l'incartamento. Dovete togliere tutta la roba dalla Bull. Guardate, ora è vuota la Bull. Proprio tutto. Mentre dovete anche aprire i bigodini, perché poi non ci potete mettere la roba. E niente, iniziamo a incartare. Dopo aver tolto tutto, iniziamo con la prima busta. Cioè, quella delle scarpine. Però dovete spogliare la LOL. Spogliata la LOL, mettiamo le scarpine nella bustina. Guardate. In una bustina piccola, tipo questa. Mettiamo e poi andiamo a mettere lo scotch. Dopo aver incartato, andiamo a fare lo stesso anche con le altre bustine. E dovete mettere dentro, come ho fatto io. Dopo aver incartato le bustine, andiamo a fare lo stesso anche con questa qui. che però è di plastica. Mettiamo il biberon dentro, anche se non la dobbiamo chiudere, perché è in uscita aperta. Poi la mettiamo nel bigodino. Messo il biberon nel bigodino, andiamo a mettere il bigodino vuoto. Fatto ciò, ora andiamo a coprire la LOL. Visto che ho staccato gli occhi, li andremo ad attaccare con lo scotch. Coperta la LOL, andiamo ad attaccare le parti. Non è che è venuto tanto bene, perché la plastica non è che si attacca molto bene allo scotch. Però non c'è male. E ora la andiamo a mettere dentro. Come non detto, si sono staccati gli occhi. Ora andiamo a mettere la checklist. Fatto ciò, ora andiamo a chiudere con lo strato. Ma mettiamo prima lo specchio e le istruzioni sotto. Fatto ciò, ora andiamo a mettere lo strato. Però, prima di mettere lo strato, dobbiamo mettere questi. Anche se sarà un pochino difficile. Ora mettiamo la carta, ragazzi. Fatto lo strato, andiamo a fare l'altro. Ragazzi, ecco la nostra LOL. Guardate, ora la mettiamo nel box e l'apriremo martedì. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e attivate la campanella per ricevere tutte le mie notifiche. Seguitemi anche su TikTok, con il profilo di Mary29Lol, su Instagram, con il profilo di Mary-09Lol e su Snapchat con il profilo di m-bogazzi19. Ciao!